Come è la prima industria? E soprattutto il bando più grosso è coprire in modo planetario ormai attraverso i nostri clienti. Abbiamo quasi 40 anni, nel 2017, l'anno prossimo faremo i nostri primi 40 anni, e insieme ai fratelli di Brim Eletro testimoniamo nel mondo quella che è la capacità di fare innovazione e di fare business anche con l'innovazione, attraverso l'innovazione. Oltre ad essere orgogliosi siamo anche convinti che il lavoro da fare sia ancora tantissimo e questo ci porta qui oggi. Noi puntiamo sui giovani, l'età media delle nostre aziende si attesta sui 38 anni e questa è la via che vogliamo continuare a percorrere. E questo perché i riscontri sono stati fino ad oggi positivi e potranno continuare adesso. Altri numeri di prime industrie sono quelli che potete leggere, siamo 1.600 nel mondo, quindi non possiamo competere con le decine di migliaia di altri nostri colleghi, però riteniamo che in 1.600 si possano fare grandi cose, belle cose e soprattutto farle con l'obiettivo di dare lavoro a persone, ma dare lavoro di qualità. Questa è una delle cose che abbiamo nel nostro DNA e che testimoniamo tutti i giorni. Lascerò poi a Michele invece che è responsabile del progetto ADPV andare più nel dettaglio di quello che per noi significa e per quello che noi significherà attraverso i colleghi, i nuovi colleghi, i brand new colleagues che oggi entrano nella nostra organizzazione, quello che sarà il nostro futuro. Grazie. Grazie. Grazie.